Il Cuneo vince la sfida tra la neopromossa e contro la Iesina. Le marchigiane, alla prima con il neotecnico Trillini, subiscono una rete nel primo tempo e una nel secondo. Apre le marcature e dopo soli 4 minuti stende Iannella che concretizza in rete un batte e ribatte in area Iesina. Dall'altra parte Triolo è brava sulla conclusione da fuori a lasciare inviolata la propria porta. Prima della fine di tempo il Cuneo potrebbe anche raddoppiare la girata di testa a centro aria, termina a lato. Polli ha l'occasione buona su punizione indiretta in area, il suo tiro termina alto sopra la traversa. Nella ripresa la Iesina resta in partita grazie all'intervento decisivo di Guidi in corner, ma si deve arrendere al gol di Simona Sodini che arriva al 57esimo direttamente su punizione. Palla a giro sulla barriera e gol del 2-0 che chiude di fatto la partita in favore per il Cuneo di Petruzzelli che conquista così tre punti importantissimi.